L'evento applicazione ed esperienza pratica prevede che gli studenti applichino le loro conoscenze teoriche utilizzando strumenti fisici o digitali, come simulazioni virtuali, in ambienti generici o specifici, ad esempio in laboratorio. L'esperienza pratica consente di richiamare le proprie conoscenze teoriche e di applicarle. Questo aiuta lo studente a testare nuovi punti di vista e a sviluppare nuove abilità. Per fare ciò il docente può proporre di analizzare casi studio, svolgere esercizi o esperimenti, creare i prototipi. Tutte queste attività utili per fare pratica possono essere svolte in spazi fisici, in aula, in laboratorio, con visite sul campo oppure con strumenti digitali, ad esempio software specifici o simulazioni virtuali. Nell'approccio tradizionale, solitamente, l'esperienza pratica avviene solo dopo un momento di raccolta di contenuti a bassa interattività. È il docente ad introdurre l'argomento, anticipando i principi generali, che verranno poi riscontrati durante l'esperienza pratica. Così facendo, si lascia che sia lo studente in autonomia a riflettere sul processo svolto. Non sempre però gli studenti sono in grado di attivare autonomamente processi riflessivi e metacognitivi. Per questo potrebbe essere utile provare a ribaltare lo scenario e valorizzare appieno l'esperienza pratica e processi metacognitivi che ne conseguono. Facciamoci aiutare dal ciclo di Kolb, uno dei più celebri framework pedagogici che supportano l'apprendimento esperienziale. Questo prevede quattro fasi. La prima, esperienza pratica, cattura l'interesse degli studenti. La seconda, osservazione riflessiva, questa aiuta a comprendere l'esperienza appena fatta e stimola gli studenti a riflettere e ragionare in maniera critica. La terza, concettualizzazione astratta, che risponde all'esigenza di generalizzare e comprendere processi, sistemi e contesti più ampi della singola esperienza. E infine la quarta, sperimentazione attiva, in cui si agevola il radicamento delle competenze acquisite e ci si prepara a sperimentare e imparare di nuovo. Sul nostro tamellone inseriremo quindi prima l'esperienza pratica, che corrisponde alla prima fase del ciclo di Kolb. Poi aggiungeremo la riflessione, accompagnata dalla raccolta di contenuti a bassa interattività. Qui seguiamo la seconda e la terza fase del ciclo. Il docente fornisce alcuni spunti agli studenti e li guida nella riflessione. Concludiamo poi con la quarta fase del ciclo di Kolb. Qui il docente potrebbe proporre una breve attività di produzione e ricerca, attraverso cui gli studenti possono consolidare e sperimentare le conoscenze acquisite. Quest'ultima attività potrebbe anche essere spostata in modalità online asincrona, per esempio proponendo agli studenti degli esercizi guidati che le aiutino a validare e sperimentare in prima persona le conoscenze acquisite in classe. Proporre un'esperienza pratica particolarmente stimolante o innovativa, come un'attività sul campo oppure un'esperienza di realtà virtuale, spesso risucchia molta energia al docente che rischia di non dedicare altrettanta attenzione agli elementi del percorso. Concludiamo quindi con una lista degli step fondamentali per il docente da non tralasciare nella progettazione di un'esperienza pratica. Definire chiaramente quali sono i ruoli di tutti gli attori in gioco, cosa fa il docente, cosa è il tutor e come agiscono gli studenti, singolarmente, in coppie, in gruppi. Organizzare bene la sequenza delle attività da svolgere, senza dimenticare di definire anche cosa avviene prima dell'esperienza, per esempio chiedere agli studenti di visionare alcuni materiali preparatori, e cosa avviene dopo, ad esempio come condurre la fase riflessione, quali spunti e domande lanciare, eccetera. Preparare per tempo tutti i contenuti a supporto dell'attività, per esempio istruzioni o checklist utili allo svolgimento dell'esperienza, oppure piccoli esercizi o spunti da fornire agli studenti per aiutarli nella riflessione. Organizzare adeguatamente gli spazi fisici in cui si svolge l'esperienza. Banalmente, se ci troviamo in classe, si potrebbe decidere di disporre tavole e sedie in cerchio, oppure se ci si trova in laboratorio, è necessario che tutte le postazioni siano equipaggiate con la strumentazione necessaria. Infine, nel caso di simulazioni virtuali, predisporre non solo l'ambiente software, ma anche gli strumenti digitali necessari. Spesso queste esperienze, soprattutto nel caso di grandi numeri di studenti, richiedono un'accurata preparazione.